bella a tutti ragazzi io sono Alex ok basta e io sono Giesius e oggi riprendiamo con Antichembre abbiamo preso la pistola gialla ragazzi la pistola gialla che non so perchè mi dice di cliccare lì aspetta aspetta dai tastieri io non avevo dai tastieri perchè mi dici di cliccare lì dove? guarda cosa? perchè c'è scritto white mouse? c'è proprio un pulsante al centro middle mouse cosa vuol dire middle mouse? what the f... cos'è? cos'è sta roba? non forse non ho mica sto coso qua rosso non puoi cosa? li teletrasporta? no ma tutto ha senso però si però dovete andare a lasciare di qua si ma ci passiamo oh wow ma perchè questa parte è staccata dal mondo poverina perchè? cos'è? cos'è? ma noi non c'abbiamo più quella verde ma funziona lo stesso praticamente ogni pistola acquisisce l'abilità ah però qua mi ricordo una cosa adesso vedrai che non ti basta nooo spero di che non ti basta sì 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 fai che bastino fai che bastino dai sì che bello ma cosa c'è nei corvi? i corvi che mi sto prendendo no ma si riformano? sì sì allora passiamo no devi fare così per riprendere what the fuck ah non posto una la volta bisogna fare così ho un mese fa tu ti disposta oh my god tu ti disposti in un angolino li vuoi andare a riprendere in un angolino? no che serve io un po' sì 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 magari ok cos'è? una buona perché spingi da mucca? alcuni ostacoli sono più più forse di altri ma la gente sì appena abbiamo già non sono con la sufficienza due questo me lo ricordo è quello che c'era sopra l'app è vero e qua c'è la fine ancora o no? c'è la fine vabbè non è la porta del no non è così aspetta fino a quando c'è qualcos'altro sul due ma non credo c'è Sauron ciao Sauron subito c'è tre tre ah secondo piano eh eh su non fate domande poi questo è passo cose fumo azzurro quante cose ci sono anche azzurro no 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 che cosa ho fatto non so qui li li potevamo passare però forse no li non accendiamo un altro muro no infatti qua non potevamo passare ok allora dobbiamo usare ancora il suo potere c'è una cosa amici cubi andate bene lì tutti a farlo sono anche bravissimi guardali che forti guarda che roba mi spariscono guarda che fine fanno muoio e invece no perché non sono finiti e vabbè passiamo che se ne fai qualcosa c'è uno strano cosa con più esperienza non c'è così tanta difficoltà non dare né a destra né a sinistra cosa bisogna fare cos'è quanti come so attiva ah devo togliere ah devo togliere il rosso che così cosa questo è davvero strano oh guarda è cambiato ah oh sto usando quelli sto usando quelli e invece di là quelli lì ah adesso immaginiamo a questa gente per cosa serve a questa roba sprechiamo un po' i cubi ubi ah in fondo tutti là voglio vedere cosa c'è sotto qualcosa allora abbiamo scoperto che praticamente ci possono disintegrare questi cubi questi cubi quello che stai usando un po' e quindi disintegriamo guarda e possiamo anche entrare senza perdervi quindi entro lo sto veramente gli sto veramente disintegrando quindi entro eh non so se li entri senza perdervi ah si salta ce la stiamo facendo ragazzi cos'è questo cubi no 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 li sto disintegrando ragazzi abbiamo trovato un nuovo perché erano un po' tanti effettivamente a pensarci bene quanti sono cos'è cos'è un paesaggio esotico ragazzi 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 cos'è quando guardate verso la superficie c'è più di quello che puoi per me cos'è cos'è questa cosa cos'è un po' tanti cosa mi sta ancora consumando i cubi e qua non c'è e qua li perdiamo eh non c'è si prova e pazienza e va bene tutto pieno di queste stanze senti non si sente niente poi nella marmellata o in gelatina o una cosa dove stiamo andando andiamo dritti o indietro no no andiamo avanti non sono arrivato qua per Ale non riesco a vedere niente però sto fermo ma cos'è stai fermo grazie cos'è sta roba what ah una scatola di qua una scatola no 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 ancora delle scatole come e non c'è neanche ubi cos'è what guarda finito di cubi oh vabbè siamo di qua adesso non possiamo e come c'è un cubo vero devi morire va bene vediamo se muore bravi è morto guarda guarda che geni che siamo stati qua scommetto che voi ci stavate sottovalutando per questo genio là ma ignoti quindi non si può fare niente di qua si spera che si possa fare qualcosa e no di qua siamo sulle scale sulle scale sulle scale contrario come si fa salire queste scale qua erano a meno che tu non riesca a creare le scale qua siamo però chiudiamo qua il video no perché chiudi qua il video? si aspetta un attimo che faccio chiudiamo qua il video? è la mia cosa preferita aspetta un attimo cioè io ho aspettato il momento tutto il nostro tempo e tu chiudi il video l'altra cosa preferita dove li mandi? a quel paese aiuto aiuto perché c'è uno senza testa? cosa c'è qua? via c'è uno senza testa guardi fuori segui qua vai ok entriamo salta no non si può oh si si oh si sta fermo è un passo connettere i pezzi può risolvere un passo vuota chiudiamo qua il video si chiudiamo qua il video con l'infinito e oltre con questa cosa strana ma molto strana e non entrare perché se no ci permette quindi se il video mi è piaciuto lasciate un commento mettete mi piace iscrivetevi noi ci vediamo in un prossimo video bello ragazzi quella ragazza crede in me voglio proteggerla finalmente finalmente hai pronunciato quelle parole se combatti per qualcuno a cui tieni davvero la tua forza sarà ineguagliabile è questo che ti rende umano combattere per qualcuno l'addestramento è finito ora puoi disporre del potere delle stelle la star force si ragazzi perché il grido fosse pure scelta